volete ammazzare due volte i morti in guerra fate scrivere un epigrafe in memoria sulla loro tomba naturalmente non devono mancare le parole patria sacri confini dovere eccetera eccetera la guerra è pura necrofilia in guerra gli esseri umani sono cose da distruggere gli atteggiamenti critici non sono consentiti l'obiettivo è mostrare alla comunità che le sue sacralità sono protette la guerra protegge la religione la cultura l'identità di un territorio così per i soldati al fronte la violenza diventa un elisir da consumare con metodo e strategia fino all'inebreiamento finale a patto che si sopravvive che si fa dopo la pace si intitano le strade gli eroi si allargano i cimiteri si inaugurano monumenti ai caduti nelle guerre di grande formato si costruiscono i sacrari immensi mausolei dove si sviluppa l'uso politico della morte della memoria il marmo bianco ed obbligo la purezza del sacrificio la tomba del soldato caputo diciottesima fila quarto gradone numero 2602 e così si chiude il ciclo la mitologia della guerra è salva a domani